Sulla sinistra Alessandro Baud, alla destra in leggero svantaggio Matteo Faletti, entrambi ambiscono a raggiungere per primi la cima. Non sempre è possibile trovare lo spazio per fare qualcosa di nuovo che risulti sensato e in questo caso siamo stati fortunati. Secondo me nell'arrampicata e nell'alpinismo giustamente le regole non ci sono. Sì, non capita tutti i giorni e neanche tante volte nella vita di iniziare una via nuova sul campanitario. Sì, sì. Poi finirla è un altro discorso.